L'ecomostro ora è solo un ricordo. È terminata definitivamente la demolizione dello scheletro di cemento dietro al centro commerciale Galassia di Piacenza, fra via Goitre e via Gorni, nella zona della Madonnina. La struttura giaceva in stato di degrado e abbandono da una ventina d'anni. Inizialmente doveva diventare un elegante palazzo di cinque piani per uffici, anche se poi è rimasta un'opera incompiuta. Ben presto al suo posto verrà avviato il cantiere per la costruzione di un nuovo polo commerciale e residentiale. La società Sarda Macro SRL infatti intende realizzare due media strutture non alimentari della superficie di vendita di 822 e 2150 metri quadrati. L'azienda, che si occupa di prodotti per l'ufficio, giocattoli, articoli da regalo e cartoleria, mira a dare lavoro in questi due negozi a 20 persone. Il nuovo insediamento sarà inferiore come occupazione di suolo al precedente.